Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete autostradale della regione toscana. Sulla A1 segnalato un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze in prunita in direzione Roma. La A12 è chiusa l'area di servizio di Versilia sia in direzione Livorno che in direzione Genova. Sulla corda autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggimozzi e Tavarnelle e per lavori possibili disagi alla viabilità nel tratto compreso tra Badesse e Siena Nord in entrambe le direzioni. Sulla regionale Due Cassi assenso unico alternato all'altezza del chilometro 291 nei comuni di Inprunita e Firenze fino al 31 maggio. Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.